Veramente è stato un vero piacere per me essere presente a questa manifestazione che è molto importante, importante per tutta la storia dell'ecologia, che è molto interessante e dovrebbe essere fatta anche di più in altri posti, perché questo tipo di organizzazione è stato perfetto. I miei lavori si collocano in questo posto, che è il posto che desidererebbe e tutti i pittori vorrebbero esporre in questa manifestazione, con il piacere del mare e di tutte queste barche che fanno una festa incredibile. I miei lavori sono proprio dedicati al mare, perché il mare è la mia passione, sta nella mia anima, sta nella mia pelle, nella mia testa, è un riferimento forte di colore, di movimento e quindi penso che questa è una storia molto bella, eccezionale.